Ciao a tutti e benvenuti a questo video di Mages of Lotus, oggi parliamo della banlist che è uscita appunto da quando sto registrando ieri, il 13 maggio 2024, con varie update abbastanza spicy e anche direi impattanti, soprattutto per il pauper. Prima di cominciare invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale, soprattutto abbonare perché è la maniera più diretta per sostenerci e inoltre vi ricordo il nostro sponsor fantasiastore.it, qua in basso vedete il codice sconto, Lotus 5, che vi dà il 5% di sconto sui prodotti non già scontati, direttamente al checkout. Sono molto forniti e soprattutto molto molto veloce a spedire, quindi ragazzi approfittatene. Allora, cominciamo subito con l'argomento del video perché è bello lunghetto. Allora, Legacy, Vintage e Pauper, tutte le carte che hanno a che fare con gli sticker o le attraction sono bannate, quindi a questo punto le carte attraction e sticker sono solo più legali in commander praticamente. Quali sono queste carte? Allora, sono delle carte che si dividono in e-corn, non e-corn. Le e-corn sono delle carte che hanno il simbolino della, appunto, della ghianda e sono di perseggia illegali perché sono fatte for fun. Sono carte uscite in un set scherzo, infinity, che appunto segue la linea degli an, che sono tutti dei set appunto scherzo. E' la prima volta che avevano fatto delle carte di questi set che fossero legali da giocare, a parte le terre basiche ovviamente, sia ben inteso. E sono carte che praticamente si basano molto su random. Si basano molto su random, sono difficili da implementare, sono un casino, sono difficilissime da usare, però sono davvero un fasticcio della gestione. E infatti avevamo una differenziata tra real e online. Su MTGO queste carte, alcune, non tutte, dipende poi da carta a carta, funzionavano in maniera leggermente diversa. Per esempio il name sticker Goblin, che è quella più gettonata. Il Goblin che, prendendo un Goblin che costa 3, 1, 2, 2, ti dà mana rosso pari alle vocali che ha in base allo sticker che tu ci agganci. Online era diverso, funzionava sul lancio dei dadi anziché sullo sticker, invece in maniera leggermente sullo sticker. E niente ragazzi, sostanzialmente queste carte sono state tolte a tutti quanti i formati competitivi. Ha senso. Il pauper è stato colpito relativamente, nel senso che sì, di nuovo, l'unica carta che davvero ci interessava era name sticker Goblin. C'era qualcos'altro magari di interessante, l'attraction no, perché non si riusciva ancora a fare un mazzo da 10, 10 attraction comuni, legali. Però vabbè, insomma, ci sta. Questo è un cambio, sono molto contento, perché vuol dire che comunque la wizard guarda quello che fa. Allora, questo set di per sé doveva essere già tutto non legale, passiamo al proprio supposto. Perché era un unset, doveva essere fatto solo per divertimento e mettere come carte Chase le Shockland, perché avevano inserito le Shockland in questo set. Tutte quante, appunto, galassie belle, eccetera, e le terre basiche, full art, che sono appunto quella classica cosa che si cerca nei vari set Un. La problematica è che sicuramente, questo non ci è stato detto apertamente, ma è stato sottointeso, questo è un set che il corporate, cioè appunto chi puiglia le decisioni in alto dalla wizard, non era tanto d'accordo, perché se c'è solo di Chase carte nel set per i giocatori, le terre e le Shockland, avrebbe venduto poco. Perché, cioè, c'è solo quello, tutte le altre carte le potevi prendere, mettere da parte, guardartele, perché erano illegali. Quindi c'è stata una grossa spinta a rendere una parte di quelle carte, appunto, utilizzabile in tornei. Che però è stato un grosso errore, perché sono carte forfannissi, con effetti stranissimi, che non ha senso, non ha senso. Quindi, questo è un cambio che apprezzo, perché vuol dire che, ok, bene, capiamo che questa cosa che abbiamo voluto in toto con il wizard non ha avuto senso, basta, togliamola dalle scatole, e questo è stato davvero ottimo. Vedremo poi, tra l'altro, se faranno altri unset, quindi se ne faranno altri e come li implementeranno. A questo punto sono abbastanza dubbioso del fatto che ne faranno altri, vedremo. Poi, standard, oltre a Dieter sbannato in pauper, ma ne parliamo bene dopo, perché tanto dedicherò gran parte del video a quello. Allora, legacy, vabbè, ha già tolto tutte le carte con i sticker, questo è già stato un grosso cambio, perché il name sticker goblin in legacy era molto più rilevante che negli altri formati, e infatti c'era una lista di goblin molto molto forte, tira uno, tira uno e mezzo, insomma, giù di lì, comunque bella forte, spanata, e con questo goblin che dava una grossa mano. Il mazzo rimane forte, perché c'erano due versioni di goblin, c'era una meno all-in e una più all-in, però, insomma, ci sta, togliamo dalle scatole questo goblin, buon fine. Il formato è stato abbastanza colpito, perché lì, ovviamente, il fast mana è molto più importante che magari in altri. Standard, morale della favola, riassumendo quello che hanno detto, che è bilanciato. Sono contenti di quello che, come sta andando, e quindi sono a posto così. Pioneer, hanno detto che tengono d'occhio, ma questa è una cosa che avevamo già detto, il Vangripper, perché, vabbè, ovviamente la combo di Vangripper, Sony into Vangripper, ovviamente, è da tenere d'occhio, e basta. Poi, vabbè, le solite carte, ovviamente, che quando le hanno citate, ma l'hanno già detto altre volte scorse, 3 Surcruise, tutte queste carte qua. Modern, ovviamente, hanno detto che non, cioè, non è una sorpresa, non abbiamo fatto nulla, perché esce adesso Modern Horizon 3, che sarà un set che cambierà tantissimo il panorama Modern, e quindi non ha senso agire ora, a meno che, appunto, non avessero percepito qualche super mega ultra emergenza, che al momento non c'è. Cioè, c'è magari un po' di preoccupazione per le Line of Guilpac, Machine of Draco, e altre cose, ma, insomma, ci siamo capiti, non è momento. E, tra l'altro, Modern Horizon 3 sarà anche molto, molto, molto importante per il Pauper, ma ne parliamo di un po' anche dopo, perché già lì, comunque, ho altre informazioni. Legacy, vabbè, anche lì, qua è più specifico del Legacy, sì, sì, dicono che tengono un po' d'occhio, Orchish Bowmaster e Griff, perché, ovviamente, Griff in Legacy riesce a fare un mazzo scam ancora più forte rispetto a Modern, perché ha Reanimate come tool per poter fare ancora più scammate. Reanimate praticamente, Tapp 1 è una sorse, Reanime è una creatura, perdendo vite per il costo. Quindi potete usarlo, appunto, come pezzo di scammino, perché fate a gratis Griff, turno 1, e Tapp 1 poi fate Reanimate. La differenza è semplicemente che fate poi a Sorcery, Reanimate, basta. Però c'è il... alla fine della fiera è la stessa cosa. Anzi, tra virgolette, è anche peggio, perché Reanimate targetta una cultura che vuoi. Quindi, se, per esempio assurdo, tu con Griff, scammata turno 1, togli, che ne so, attrazza al tuo avversario, poi dirà, beh, a questo punto, anziché reanimarmi il mio Griff, mediano la tua trazza, e quindi, sugo. Vintage, vabbè, stessa filosofia del Legacy, però di particolare, vabbè, che non lo seguo, penso non lo seguo a nessuno, ma ve lo dico lo stesso, stanno tenendo d'occhio l'Urrus Urza Saga, e Alchemy Explorer, Historic, Timeless. Allora, dicono che per loro sta bene, sentendo il parere di alcuni esperti, Historic, secondo molti, non è ben seguito, e tra l'altro anche un po' di persone l'hanno commentato, che non pensano si è seguito, però per loro, per adesso, va bene così. Timeless, invece, tengono d'occhio, ovviamente, le carte spanate, che hanno fatto uscire con dei Beriting News, e le special guest di Thunder Junction, quindi Reanimate, Manadrain, queste carte qua, però per il resto va bene così. Allora, passiamo però davvero alla cosa importante della banlist, Pauper. In Pauper è stato bannato All Death Glitters. Allora, All Death Glitters è una carta estremamente potente, che praticamente era diventata la placca cefalica del formato, che è fatica la placca cefalica bannata. Allora, Tappi 2, la creatura incantata prende più uno per uno, per ogni incantesimo è o artefatto. Allora, ovviamente c'è tutto uno spiegone di Gavin, vi lascio il link al video in cui dà anche più spiegazioni, perché con Gavin ha fatto uscire un video, perché appunto è il Pauper su Down Panel, e sono molto open su quello che fanno, questo davvero io lo apprezzo moltissimo, e vi lascio magari anche il link dell'articolo che sto vedendo adesso appunto, però vabbè, l'ho trovato sulla banlist, cosa vi faccio da trovare. Comunque, riassumendo, All Death Glitters creava degli estate, dei borsi troppo, troppo, troppo polarizzanti. Allora, se io te la faccio early game, a parato genitale maschile duro, detto in termini francesismo, ti sto chiedendo praticamente una domanda molto secca, hai la removal o no? Se non ce l'hai, sei morto, perché questa creatura, anche se diventa magari umile, un 6-6-7-7, tu non riesci a gestirla, ti fa la tabellina del 6 e muori. Se invece io te la faccio in late game, è comunque un problema, perché l'altro non potrà mai tapparsi out, o tapparsi low, quindi tapparsi con poco mana, tipo lasciarsi solo open di due per tirare la spot removal a instant, per tirare il cast down, per intenderci, perché a quel punto io farò un waiting game, inizio praticamente a accumulare risorse, quindi proteggini più All Death Glitters, e in un turno solo ti farò la minaccia che c'è per terra, insomma, quello che è, ti faccio magari uno o due All Death Glitters con protezione, e tu non riesci appunto a starci dietro e muori, perché poi tra l'altro a quel punto della partita, che siamo in late game, All Death Glitters è facile di ti one-shot, c'è una roba come 13 danni, 13 danni in su, e quindi muori. Il tutto condito da mazzi che sono aggressivi, quindi tu non è che puoi in realtà dire, vabbè, facciamo la cosa che ho detto prima, stagliamo, waiting game, ma nel mentre il tuo avversario dopo All Death Glitters non fa nulla, nel mentre magari ci sta picchiando con i Miner Enforcer, con la Therpe 5-6, con il Glyntok, con la Scorsky Fisher, e quindi questo è un problema. L'altro motivo per il quale All Death Glitters non gli piace più nel formato, è che prima era un tool solo di Affinity, infatti nel vecchio articolo sulla banlist di Pauper, quando praticamente hanno bannato Monster e Swishpire, hanno detto, boh sì Affinity è ancora alto, non va benissimo, però ha dei tool specifici, e fa una cosa alla fine tutta sua, anche tra virgolette divertente, fa tottero, ci ficca All Death Glitters, ti attacca, insomma però per adesso è gestibile. In realtà adesso ho visto che Cazzarola All Death Glitters stanno a essere splashato anche in mazzi non affiniti, c'è proprio che diventa un perno, infatti adesso il tier 1 del formato, meno ex tier 1, perché mo cambia tutto, era Boros Synthetizer con All Death Glitters, che praticamente ti uccideva di volanti più botti, o volanti più All Death Glitters, cioè non è più botti, anche ovviamente, perché quelli stanno sempre bene. E quindi Morale della Favola è una carta molto forte e facilmente splashabile in vari deck di Pauper, praticamente questo è quello che non ci vogliono dire, e che man mano che andiamo avanti sarà sempre più splashabile, anche perché fare artefattini, piccolini, così è sempre più facile, tra gli indizi, per esempio abbiamo 8 Traben, quindi tutti i mazzi che giocano 8 Traben hanno già una fonte che fa artefatti facilmente, e poi la mana base anche del Pauper stesso, ci si giocano tante terra artefatto, 4 sono X, cioè 4 in base a quanti colori giochi, almeno 4, poi dipende da quanti colori giochi, ce li avrai indistruttibili che sono i fonti, poi ne avrai magari 8 in aggiunta, perché giochi appunto due colori, quindi metti quelle vecchie di Mirodin, e già così sono tante fonti artefatto per poter fare un Oded Glitters quello grosso, e non va benissimo, ecco ragazzi, da questo punto di vista lo capisco, ovviamente hanno anche discusso se bannare magari il terra artefatto e lasciare Oded Glitters, perché comunque il terra artefatto sono sempre un problema in questo formato, perché fanno fare cose rotte, però hanno visto che se togliamo alla fine togliere solo i ponti non avrebbe cambiato, perché Boros comunque sarebbe rimasto comunque giocabile, con qualche confusura e sarebbe comunque fatto tanti danni, quindi non l'hanno trovato corretto, e poi comunque toglierebbero un pezzo di anima del formato, l'ha fatto appunto. Altra cosa importante, e questa poi giusto per chiudere la parte di Pauper, ma tra un po' anche il video, perché comunque questo qua è proprio il perro, la cosa da dire del principale del video, è la cosa che ha fatto più scalpore, Prophetic Prism. In realtà Prophetic Prism è da un po' che ne parlano, già la volta scorsa ne avevano parlato di sbannarlo e renderemo accessibile nel formato. Quando l'hanno bannato, il tier 1 del formato era Tron Pentacolor, Pentacolor, quadricolor, insomma, Fogtron, Blinktron, quello che si gioca anche adesso, che non è tier 1 per niente, il formato direi che è cambiato tantissimo, anche perché hanno dato tanti tool ai mazzi tempo e aggressivi per riuscire a, diciamo, reggere questi mazzi qua. Prima praticamente era un scontro solo di value e tutti i mazzi giocano solo value, quindi Tron era il top dog, era il vincitore, perché, grazie al cavolo, costa e terre. Adesso, Tron ha un prophetic prism, che è l'Energy R-Factor, che però non lo rende comunque il tier 1, anzi, è un mazzo forte, se becca altri mid range, magari il trita pure, però, cioè, non è per niente il tier 1 discusso del formato e quindi ridare indietro il prophetic prism probabilmente non lo rende inutale, perché non l'ha sbannato, quindi. Allora, uno, non hanno la certezza di questa affermazione, cioè, non possono assicurare il 100% di Tron, insomma, che sia non invincibile con di nuovo il prophetic prism, e quindi punto primo. Punto secondo, Tron comunque è già potenziato, perché uno dei suoi nemici principali, Odded Glitters, è stato eliminato e quindi, di nuovo, perché dargli un ulteriore buff, se ha ricevuto un buff dall'indebollimento degli altri, e poi, tre, cosa principale, c'è Modern Horizon 3 all'orizzonte, Modern Horizon 3 all'orizzonte, porterà tantissime comuni forti. Gavin, tra l'altro, l'ha già detto, che ce ne sarà, perché le ha viste, ovviamente, beh, lui fa parte del team del design, quindi insomma, le cose le vede prima, ce ne è una in particolare, che non ci ha detto cosa fa, che è, quasi sicuramente tra bannata, perché è molto simile a una carta che è già bannata adesso, e quindi, sostanzialmente, ci fa intendere che il power level di molte comuni che usciranno in quel set sono davvero over the top, sono spanate, quindi, essendo che sarà un grossissimo shake up, loro preferiscono non peggiorare ultimamente la situazione, perché magari, inserendo per fatti prisma, rendi ancora più rotte delle cose che usciranno in quel set, perché appunto, lui sa già, e tante altre cose, quindi capisco la decisione e ha molto senso. Infatti ha detto, rivediamoci dopo Modern Horizon 3, dopo che sia stato un po' tutto il polverone che tirerà fuori, e quindi, poi li vedremo se bannare appunto tutto quello che c'è da bannare di Modern Horizon 3 che sicuramente ci sarà, cioè ha detto che praticamente è certo, cioè è davvero strano se non fosse così, e in caso puoi dare indietro il prophetic prisma, che sarebbe, poi ci sta, è carino, ci sta. In realtà non solo Tron potrebbe beneficiarne, possono anche beneficiarne un po' i mazzi Core Sky Fisher, che magari possono giocare qualche colore in più, gli appinti potrebbero anche giocarla senza problemi, perché la differenza principale con l'Energy Refractor è che l'Energy Refractor l'ha fatto solo apposta per Tron, perché l'Energy Refractor non lo tappi, quindi puoi usarlo quante volte vuoi, a differenza del prisma, che devi tapparlo per filtrare il mana, però qua te lo filtra uno a uno, cioè tu spendi un mana e ti andavi da uno, qua mi accetti da, filtri, paghi due per filtrare uno e quindi insomma, ovviamente se sei Tron che bari sul mana se sei un altro, un altro mazzo o no. Niente ragazzi, altre cose dire di no, quello che dovevo dirvelo, abbiamo detto, vi faremo ovviamente uscire anche la nostra analisi prediction del Meta Pauper, cioè quello che magari potrebbe succedere adesso che appunto è stato cambiato tutto, che però di nuovo non durerà molto perché da qui a un mesetto perché poi di nuovo si ribalta tutto come odora zon3, però almeno tra questo mesetto siete coperti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao e fate i bravi.